Go Michael, go Michael, go Lorenzo, go Lorenzo, Michael Franti, Lorenzo Giovanotti, yeah my friend, my friend Mi sveglio la mattina e do uno sguardo in giro, diceva che era brutto invece il sole è d'oro Saluto la giornata, spiro un po' la schiena, vi devo guadagnare un pranzo e poi una scena, a volte gira bene, a volte gira male Ben trovate carissime telespettatrici e carissimi telespettatori di Barahonda, siamo a Eboli, lo state vedendo dalle immagini, un negozio colorato, sgargiante, davvero molto allegro, party planner e siamo con Rosita, ciao Ciao, salve a tutti E Adriano, salve Salve, salve a tutti Allora, loro sono quelli che quando avete un evento da festeggiare, un compleanno, una qualsiasi cosa, anche perché oggi credo, e voi mi darete ragione, i motivi per festeggiare ci devono essere Ci devono essere anche perché siamo in crisi, ci sono problemi, eccetera, però una bella festa in famiglia, a volte davvero ci rende la vita un po' più allegra E allora dice, faccio una festa, e beh, si fa presto a dire faccio una festa, perché come la fate? Che cosa, come adornate per esempio, insomma, la casa? Che cosa ci mettete? E beh, venite qui, chiedete a Rosita, chiedete a Adriano e sicuramente vi daranno, insomma, i consigli giusti Te faccio una festa Eh, nel senso buono, nel senso buono del termine Allora, per una questione di galanteria, inizio prima da Adriano Ah, da Rosita, giusto che è lei, insomma, il tocco femminile, oppure Adriano, il tocco femminile Adriano Adriano Allora, la proposta qual è? Insomma, io vedo davvero tante, tante cose Poi c'è l'imbarazzo della scelta, no? Sì, noi partiamo da... abbiamo un po' di tutto Abbiamo dai gadget, articoli da regalo Riusciamo a adornare tutto, dal buffet alla torta Riusciamo ad avere un po' di tutto, palloncini, quello che si vuole Noi abbiamo tutto Praticamente, insomma, giusto per capire Festeggiate gli anni, i compleanni, ad esempio Anche dai bambini, dai più piccini Sì, sì, dagli zero, dalla nascita fino ai cento e passanne Abbiamo di tutto Per esempio, qualche cosa per un diciottesimo anno, no? Per un compleanno Quello che si festeggia poi di norma di più Sì, no, noi facciamo, confezioniamo anche i regali nei palloncini Riusciamo a fare le ostie sulle torte, modifichiamo le foto Abbiamo ostia di zucchero, ostia normale Abbiamo gadget sexy per gli scherzi sia per i 18 anni Che per gli addi al nubilato, al celibato Abbiamo un po' di tutto Relativamente, insomma, agli orari Come siamo messi durante la... Noi siamo per tutta la settimana, tranne la domenica Dall'oledì al sabato Dalle 9 e 30 Ce la prendiamo comoda Sì, sì, sì Dove è 30 Dove è 30 Venite intorno ai 10 è meglio È meglio Dove è 30 fino alle 1 e mezza, 2 E poi pomeriggio dalla 4 e mezza fino alle 8 e mezza Siamo sul viale a Eboli, insomma Famosissimo viale, voglio dire È vero, lo struscio qui, insomma Non è mai mancato del viale di Eboli Davvero complimenti anche, insomma, a tutti i cittadini di Eboli Per questo grande viale Soprattutto, questo lo dico personalmente Non c'entra niente con quello che stiamo facendo Ma ci sono le donne più belle del mondo È vero? Lo dico a te, insomma, lo dico a te Tu non puoi parlare Lo dico io, davvero Sul viale di Eboli Sfilano davvero le top model più in gamba Qualche top model Vabbè, non fare riferimenti ora Magari Eccola qui In piedi Allora, parti Alzati, alzati Fatti vedere, alzati Che devo dire, voglio dire Che siamo là come altri Come siamo là Insomma, va bene Ma proprio per questo, qui ci si diverte È un negozio allegro, voglio dire Mica siamo a fare pizza e figli No, voglio dire Qui, insomma, ci si diverte Perché è un negozio allegro Ci sono tanti, davvero Tante, tante idee, lo ripeto Per le vostre feste Party Planner Party Planner che significa? Organizzatore di feste Organizziamo La vostra festa Insomma, diciamolo anche Diciamola tutta Insomma, loro, voglio dire Possono anche venire ad animare La vostra festa Esatto Dal punto di vista proprio Dell'intrattenimento Lo conosco personalmente Lo conosco tutti e due Personalmente Insomma, davvero possono Come dire Chiudere il cerchio No? A 360 gradi Dalla musica All'allestimento, diciamo Pure l'allestimento Eccetto, giustamente Insomma, quello che C'è intorno alla festa Quindi, allora Numero di telefono Ce l'abbiamo? Sì Numero del negozio 0828 21 23 35 O quello Mobile Cellulare 333 4172 086 Perfetto Allora Noi, intanto Questi numeri Li stiamo facendo Scorrere sotto In modo che Voglio dire Voi a casa Prendete carta e penna E ve li segnate Mi raccomando Avete una festa Voglio dire Da organizzare Avete qualche cosina Davvero di Sfizioso Pensate Ma non vi vengono le idee Venite qui Trovate Rosita Trovate Adriano E sicuramente Insomma Ci saranno tutte le idee Per voi Party Planner Viale Amendola E Bolivia Aspettiamo Facciamo ora Tutte e tre Insieme Una cosa Che non si fa Da molto tempo In televisione Ci stai? Ci stai? Vai Salutiamo Ciao A solo A solo